Cosa hai detto prima al venditore? Che non ci stanno? I piccioli. I piccioli non ci stanno? I piccioli. Perché anche lui è siciliano e ha detto guarda che non ci stanno i piccioli. Prendiamo quel nostro linguaggio. I piccioli? I piccioli. No, hai detto a Cannavoi non ci stanno. Non avevamo piccioli. Non avevamo. Rosalinda Cannavoi e Andrea Zenga si sono recati in concessionaria per scegliere una nuova auto, poiché quella attuale necessita di essere sostituita. Nel frattempo, la loro piccola Camilla, nata poco più di un mese fa, è affidata alle amorevoli cure dei nonni materni. I genitori di Rosalinda, arrivati dalla Sicilia, sono infatti a Milano per dare una mano alla giovane coppia, aiutandoli nella gestione della nuova vita da genitori. Tuttavia, nonostante la gioia per la nascita della figlia, Rosalinda ha condiviso un messaggio sui social che ha lasciato i fan con molti interrogativi. Le sue parole sembrano riflettere uno stato d'animo complesso. Spesso vorrei poter scambiare la mia sensibilità con una dose maggiore di indifferenza. Perché ci sono attimi in cui questo mio modo di percepire si trasforma in un peso per me, non è chiaro a cosa si riferisca la giovane attrice. Ma il post ha sicuramente scatenato la curiosità dei suoi follower, che si chiedono se ci siano tensioni o difficoltà nascoste dietro il suo apparente malessere emotivo. In attesa di chiarimenti, la coppia continua la sua routine familiare, sostenuta dall'affetto dei proprii cari.